Uno spettacolo apocalittico quello che si osserva sulla spiaggia dei Maronti dopo questo lungo periodo di mareggiate e cattivo tempo. L'emergenza maggiore è la passerella in legno che è davvero un pericolo a cielo aperto. Come accade ogni anno, il mare, mangiando la spiaggia, ha scavato un vuoto sotto la struttura che quindi ora in certi punti è un ponte sospeso su oltre due metri. E questo sarebbe poca cosa se le intemperie non avessero fatto marcire le assi di legno da cui è formata la passerella, trasformandola in un percorso per acrobati. E non è finita. Chiodi e ferri arrugginiti scoperti lungo tutta la struttura la rendono un'insidia per tutti coloro che vi si avventurano incautamente come potrebbe fare un bambino o qualcuno troppo fiducioso nelle sue capacità di equilibrista. Mentre alcune assi sono state divelte, altre sono marce e potrebbero facilmente crollare anche sotto un peso leggero. Sarebbe opportuno mettere in sicurezza al più presto la zona e anzi, visto che la faccenda si ripete ogni anno, ci si chiede perché questa passerella non venga smontata a fine estate. Il mare d'inverno ha sottratto la sabbia ai Maronti, ma ha anche portato qualcosa in cambio. Un incredibile cumulo di rifiuti. Oltre la solita quota in plastica, anche molto ferrarugginito, su tutta la spiaggia, soprattutto lato Olmitello, un cimitero di bombole del gas esausto ai pezzi di motorini, di barche, di elettrodomestici che creano un paesaggio inquietante, in ampio contrasto con la cartolina di Sant'Angelo come fondale. Un turista che visita in questi giorni la spiaggia dei Maronti c'è da scommettere che porterà con sé davvero un'immagine indimenticabile dell'isola e sicuramente anche qualche foto o filmato da postare sui social network per condividere la sua esperienza sulla spiaggia più bella dell'isola.